Sono Duccio Buonaiuti, responsabile di Quest Global in Italia, società che si occupa di ingegneria e di sviluppo tecnologico. Siamo orgogliosi ed entusiasti, parlo ovviamente sia a livello personale che aziendale, di sostenere l'iniziativa di Ingenial Femminile, in quanto questa copre tre elementi fondamentali della cultura aziendale di Quest Global. Il primo ovviamente è quello della formazione, poi quello della sostenibilità, che è il tema del bando, e questa è una parte fondamentale della mission aziendale. Quest Global si prefigge lo scopo di diventare una società centenaria per cui i nostri nipoti siano orgogliosi di lavorare e di contribuire attivamente allo sviluppo sostenibile del pianeta. E poi soprattutto il tema della parità di genere. Noi crediamo fermamente nella valorizzazione dell'individuo, in quanto tale, e quindi nello sviluppo delle sue potenzialità, indipendentemente dalla sua provenienza, dalla cultura, credo o genere.